Salve a tutti ragazzi, bene brutti e iscritti, benvenuti, bentornati su GioveHdSpo Io sono GioveHdSpo e questo, questo è il video del contest che vi avevo annunciato Il contest come vi ho detto nel video sarà particolare, ma lo vedremo a breve Allora, le regole Essere iscritti al canale Mettere mi piace alla pagina Facebook e a questo video Commentare, scrivere una battuta corta, ma che sia molto, molto, molto divertente Io sceglierò una tra queste battute e sarà il vincitore del contest da 5K Scusate se lo faccio da così poco, ma sarà un contest settimanale da 5K Al vincitore darò 5K Però, non appena arriviamo a 1000 iscritti al posto della 5K Inizierò a farlo da 10K Quindi, se potete, volete, condividete a più non posso Così, arrivate a 1000 iscritti Lo farò da 10.000 credit a settimana Scadrà mercoledì E mercoledì stesso farò il video con l'estrazione e il nuovo contest Ovvero, farò il video dell'estrazione del vincitore Insieme all'inizio del nuovo contest Al vincitore gli scriverò un commento E quindi, spero che vi sia tutto chiaro Spero che partecipiate in tanti Lasciate le vostre battute molto divertenti qui sotto in descrizione Iscrivetevi a questo canale se non sieteci iscritti Qui è Giovis Pochi, saluto per i net Ci vediamo domani con l'episodio di scontro tra titani Ciao, bella a tutti e al prossimo video